L'ultimo lavoro al quale il saccenza Alessandro Di Stefano ha preso parte nella qualità di attore è Io sono la fine del mondo, il primo film da protagonista del cabarettista palermetano Angelo Duro. Che esperienza è stata? Bellissimo perché abbiamo passato due giorni, io ho girato, faccio Giovanni, sono l'amico della sorella di Angelo, due giorni sopra un veliero meraviglioso di 30 metri credo sia, ed è stato molto 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 divertente, ci siamo divertiti tantissimo, sono stati due giorni molto intensi perché abbiamo fatto anche la notturna fino alla luna di notte a girare con questo veliero, è stato bellissimo. Ma è un elenco che si infittisce ogni giorno di più, quello di opere cinematografico di fiction alle quali Alessandro Di Stefano ha già preso parte. La foto che vediamo dietro alle tue spalle si riferisce alle riprese di quale film? Indiana Jones, il quadrante del destino, è stata un'esperienza meravigliosa, ho passato dieci giorni sul set con Harrison Ford che mi recitava a due metri di distanza, è stata un'esperienza meravigliosa. C'era anche lui nel film Iddu di piazza a Grassadonia. Stai inanellando una serie di partecipazioni anche in film molto importanti. Ho fatto Iddu, ho fatto Magari, con Claudio Gioia. Con Claudio Gioia. Sì, mi ha chiamato Simone Brucculeri, è la prima volta che facevo tra l'altro l'attore, perché ho sempre fatto teatro, ma col cinema non avevo niente a che fare. Com'è nata questa, intanto questa passione per te e poi la possibilità di far parte di questi cast? Guardi, ho sempre adorato il mondo dello spettacolo, faccio teatro, canto, tu lo sai. Per scherzo ho voluto fare un casting che si teneva a Trapani, dove c'è il casting di Indiana Jones, sembrava uno scherzo parlando, quindi non ci volevo andare. Ho iniziato da lì e c'era una marea di gente, sono stato selezionato e da lì poi è cominciato una serie di partecipazioni a The Bad Guy 2 con la Pandolfi e da lì sono sfociato una serie di situazioni che ho cercato io, perché purtroppo non ho un agente. Intanto credo che un agente dovrai adesso. Vediamo se qualcuno ti è interessato, io sono disponibile. Alessandro Di Stefano è comparso anche nel film Sicilia No Holiday, quello girato a sciacca tanto per intenderci, e più di una volta è stato tre volte di Forum, il noto programma di Canale 5. Ho partecipato già due volte a Forum, mi hanno richiamato tre mesi fa. Questo ci ricorda che le storie che raccontano, ancorché vere, sono comunque interpretate da attori. Assolutamente, sono storie vere interpretate da attori. L'attore esercenza dunque continua ad essere selezionato dai registi e dai loro staff, cosa che adesso lo induce a ritenere necessario affidarsi ad un agente. Quindi questo mondo dello spettacolo ti è entrato nel sangue? Mi è sempre affascinato, l'ho sempre amato. L'idea di trasformare queste opportunità che hai avuto in qualcosa di più duraturo, la stai coltivando? Mi piacerebbe tantissimo, guarda Massimo. È difficile, perché entrare a far parte del mondo dello spettacolo in maniera da professionista non è facile. È un mondo un po' travagliato, però ci tento.